Della partita o parliamo dei cori? No, parliamo che l'Inter prende posizione. L'Inter a prendere posizione comunque a togliersi da quello che è successo disgradevole durante la partita, quindi questi cori Beceri contro Koulibaly che hanno comportato comunque il rendimento del giocatore, cioè hanno influito sul rendimento del giocatore ma soprattutto sullo stato emotivo del giocatore. E questo ha fatto sì che naturalmente Khalidou si è innervosito e a un certo punto ha fatto quello che ha fatto, insomma questo applauso, questo nervosismo in campo che ha comportato una squalifica, una squalifica che devo dire per il gesto fatto è stata giusta, però voglio dire questo gesto ha un perché. Il perché lo sappiamo tutti, cioè insomma il ragazzo è molto sensibile all'argomento, Ancelotti ha più volte detto anche in conferenza che questi cori sono stati denunciati da parte di Ancelotti, dello staff del Napoli perché più di una volta, quindi penso che siano state tre volte queste ammunizioni da parte del Napoli nei confronti di questi cori, l'arbitro ha fatto un solo sbaglio, quello di non interrompere la partita perché a un certo punto dopo tre volte che la società Calcio Napoli dice che ci sono questi cori che danno fastidio e creano un clima malsano all'interno del campo, tu dovevi interrompere la partita perché questi cori fanno del male al giocatore ma fanno male soprattutto al calcio. Allora io aggiungo una cosa. C'è stato bisogno dell'espulsione di Koulibaly per dare voce a questa situazione che è stata una situazione veramente sgradevole perché poteva essere una giornata di calcio piacevole, un big match importante dove comunque due squadre si giocavano dei punti